La massa ha una grave carenza di organico, siamo appena a 160 su una forza necessaria di 205, così non si può andare avanti. Un grosso problema della struttura carceraria, un istituto appena costruito da 10 anni, già ci piove dentro, ci sono locali che alle prime piogge sono letteralmente allagati, problemi strutturali grossissimi. Grave carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le relazioni sindacali, ormai siamo allo sfascio, non ci sono relazioni sindacali, il direttore non si mette assolutamente a confronto con i sindacati. Siamo ormai allo sfascio, dovrà definirla. Denunciamo una grave indifferenza da parte dell'amministrazione e della classe politica. Basti pensare che la promessa di assegnazione di un repartino detentivo ospedaliero è rimasta solo una mera promessa e non è stata mai realizzata. Le condizioni sono estreme e il personale è in grave difficoltà.